Adesso la parola al dottore Sabelli, non più di due minuti e trenta secondi. Costantino Visconti è un provocatore e allora io gli rimpallo la provocazione. La formazione dei magistrati futuri comincia dalle università. E allora occorre anzitutto che i piani di studio delle università siano adeguati a questa funzione che è una funzione difficile. I piani di studio del corso universitario e i piani anche l'organizzazione delle scuole di specializzazione dopo il conseguimento della laurea. Poi, una volta diventati magistrati, gli strumenti noi li abbiamo. Abbiamo una tradizione di formazione del Consiglio Superiore della Magistratura e un'eredità che è stata adesso raccolta dalla Scuola Superiore della Magistratura. Certo, non è che la formazione si può esaurire in quel corso che magari si fa più o meno obbligatoriamente una volta all'anno. In realtà l'offerta è molto ricca, c'è la formazione decentrata, ci sono le occasioni di incontro e poi è la formazione che si fa sul campo attraverso quella osmosi, quel trasferimento di esperienze, quell'arricchimento che avviene all'interno dei nostri uffici, magari con lo stimolo dei nostri dirigenti che hanno questo compito anche di stimolo nei nostri confronti, con lo stimolo che deve venire anche dai doveri legati alle valutazioni di professionalità. Hai fatto riferimento anche al rischio di un'autoreferenzialità della magistratura. Domani c'è la presentazione della Costituzione di questa associazione, dei magistrati, delle misure di prevenzione. Devo dire che noi come Associazione Nazionale Magistrati abbiamo da tempo cominciato un rapporto di apertura e di confronto, anzitutto al nostro interno, perché all'interno della magistratura non c'è solo l'Associazione Nazionale Magistrati, ci sono altre associazioni che raccolgono coloro che operano in settori specializzati. Penso alla materia dei minorenni della famiglia, i magistrati di sorveglianza, quindi benvenga anche questa nuova realtà associativa, ve ne sono altre di settore, benvenga questa nuova realtà associativa, è una ricchezza per tutti noi, ma il rischio di autoreferenzialità si supera anche attraverso un confronto con l'esterno. E anche qui credo che da tempo noi abbiamo cominciato un rapporto di scambio con le università, con il mondo del vario associazionismo, con i sindacati, con le realtà di rappresentanza dell'imprenditoria. Per carità, corriamo forse questo rischio di autoreferenzialità, ma insomma forse abbiamo anche gli anticorpi. Grazie tantissimo e ci vediamo alla seconda sessione, cioè adesso, come si dice in televisione, state seduti, non cambiate canale.